oh anche stamattina si è svegliato lo stronzo no c'è uno stronzo guarda che casino si è svegliato lo stronzo ma buongiorno buongiorno sto cazzo no ma che cavolo hai fatto ma queste adesso le digerisci meglio i suoi stricolè ma tu ve lì a fanculo fa mi piacere più lontano stai meglio ma queste sono stricolè si queste le stricolate ma stricolè le digerisci no no il biscotto è stricolato no porca madre ma c'è anche lei c'è Mary oh ciao buongiorno guarda non è più brava lei con tutto il capello alla maria dona guarda che capello fatto è ora avanza bene sembri tipo un pellicano un pellicano un pellicano va via va via ma anche tu si di qui no di là no come tocca fa solo marmellata di fica ragazzi mi raccomando guardate marmellata di figa il video è lui o non è lui è lui lo schiso mamma mia come schisa guarda schisa straborda ti di veramente carico no vabbè sta pieno raga sta pieno di figa incredibile cioè è assurdo è pieno 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 chissà se sarà mai pieno 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 io c'è scherzo c'è scherzo ma curazzi anche arriva il momento che sta pieno veramente eh boh perché qua eh le previsioni sono buone vediamo perché io sto vedendo un grande anzi un andreoni il grande alla fine latzone come fa vai 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 andrim metti sta macchina vai i bolide a me è ambì vai vai bmw ragazzi ogni un busterino chi è la persona contenta che oggi stiamo insieme? io dove andiamo? sorpresa sorpresa sorpresona quanto sia bello? che cazzo? che cazzo? che cazzo? che cazzo? che cazzo? che cazzo? passo passo nuovo oggi stai al top oggi ti fa conoscere anche una persona sai? si che cazzo? che cazzo? che cazzo? che cazzo? da dove viene questo? porta giù ma chi? porta giù? che fa schifo eh lo so ma no eh lo so fa schifo io non la mandarlo via più o meno come è? come andrei? come andrei? oh come andrei? che cazzo? 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 ah da me mi ha dato un calcio che cazzo? che cazzo? che cazzo? che cazzo? andreone 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 questo che cazzo? ah ma perché? fammi vedere le offerte anche da me oh fammi delle offerte guarda come calcia quanto sei atletico è arrivato federico scavo eccolo sei anche mike sta pieno come si fa da federico a casa mia si mette sul letto mio cioè io bocca sta pieno di intrusi oggi chissà come mai comodo ma sentiamo ibraimovic guarda sul tavolo fammi toccare il cincillare ma levati di coglioni fammi toccare il cincillare guarda che il telecomando fammi toccare il cincillare ma levati da lato a civita nuova come non è civita nuova non è la civita nuova sei carico o no? ma sei contento? ma sei contento o no? oggi è carico eh mauro? no poco un po' oggi lo filmai cioè è una cosa assurda alle sette e mezzo non si regge l'ho bruciata alle sette e mezzo io andavo in palestra si vocifera che sei svegliato alle quattro tre quattro noofi è dioscia f merci è pieno? è pieno Ma... Bene, dopo ti facciamo un regalo Vai, vai, vai Vai, vai Quanto sei carico? Quanto Guarda un po', vai Vai Non si fa, non si fa Cazzo è bene Trent'anni di carriera Rovinati Arzughe Eh, com'è? 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 Quadrilli, l'Inter Campione d'Italia Sapete che sono felicissimo Ma andiamo a festeggiare su Bidu perché ho preparato Una sorpresa per voi Intanto vi faccio vedere una cosa Coccodrilli Guardate 0.23 centesimi Sette puntate utilizzate Una Magnum di Dom Perignon Venduta Cioè, fantastico Per festeggiare lo scurietto questa Fate anche un giro sulla sezione Luxury E provate a fare la vostra E provate a fare la vostra puntata Guardate che lavoro Un pochino Che giornata che è stata ragazzi Ma ne volete vedere belle assolutamente? Sì 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 Da la Zigianna Da la Zigianna No, da la Zigianna Ah ok, scusa Zigianna La Zigianna controlla i biglietti L'autostrada Dagli un po' Forza Vai, 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 vai Come sei stato? Bene Solo bene? Sei contento? Sì Sei carico questo progetto nuovo? Sì Eh? Quanto? Ragazzi, lui è il numero uno Cioè, abbiamo passato una giornata Fantastica Sì Siamo super carichi E non vediamo l'ora Di farvi vedere qualcosa Soprattutto farvi sentire qualcosa Vero? Sorpresa Com'è, com'è? Bello Bella? Sì Bella forte o bella fortissima? No, bellissima C'è Andreone Il mio caro amico Andreone Eh? Sì Ecco Sì 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 Non va adoperato Beh, allora la lepeta di coglionca Almeno non ci parlo Ecco Ma ti sono mancato oggi Sì Ma sei mancato niente Mangi anche stasera eh? Io mangio il giorno e sera E dopo che fai? Oh Dormo E poi? Oh Pett üzeri a Pammuz Ma io vorrei senti ceccemente un po' la cilla Nooo Che stago Fammi magnate Ah va Vammuz Eh Paddauer È possibile che ogni volta ci mancano Volevo capire se ti piaceva il pennello Cofanti sì isatto ma quindi аб CT Ti piace? No! Ti piace il pennello? Nooo! Eh nonna Marie? Eh? Può fare un verso, è vero? Magna, chissà che ha da fare Eccolo, vè Sei divertito la diretta? Sono quasi le undici Ti sei divertito? Sì Che vuoi fare? Che vuoi fare? Ma vuoi dormire? È le undici Do dove andai? Do dove andai? E poi? E dopo quando andai a letto qualcosa fai Dormi E dopo essere sul letto dove andai? Affanculo! Do? Affanculo! Ah buonanotte col pennello Mannaggia No! Ma ti da gusto il pennello o no? Mi dai fastidio Ma perchè il pennello non ti piace? Mannaggia il crocistrama Lei va a tappare! Certo di coglioni! Oh dammi pace! Ma ti volevo anche toccare un po' il cinci Si cazzo da toccare! Nooo! Va possibile Comunque saluta Rocco E Rocco ormai non c'è più Saluto saluto! Ciao Rocco! Meglio meglio! Ma vaffanculo va! Nooo! Anche Rocco no! Buonanotte! Io sono cotto oggi Ho fatto un miliardo di cose Però siamo divertiti È stato bello E questo weekend ci saranno delle sorprese Belli carichi, belli attivi Ci vediamo e ci vediamo domani Domani sveglia super presto Vediamo se ci sarà l'occhio pecoro Boh! Non lo so Secondo me si Buonanotte Voglio bene! Noi!